Musica Firmato dall'assessore regionale al turismo il decreto di adozione dell'elenco aggiornato dei comuni turistici della Sicilia in base alla più recente classificazione Istat, tra i 291 comuni presenti anche Paternò. Adottato dall'aggiunta regionale il disegno di legge sulla reintroduzione delle province in Sicilia, sul testo dovrà adesso pronunciarsi Lars. L'inchiesta sulle acque da Trano non luoga a procedere per il sindaco Fabio Mancuso, per il predecessore Angelo Dagate, per l'ex commissario Angelo Saieva. Dopo l'ospedale Garibaldi Nessima di Catania, anche i presidi di Bronte, Biancavilla, Cireale e Caltagirone riaprano le porte dei punti nascita ai Neopapà. Si ritorna alla normalità dopo le restrizioni pandemiche. Prenderanno il via lunedì la vol di scarifica e messa in opera del nuovo manto stradale sulla circonvalazione di Catania. Si parte dal tratto di Viale Felice Fontana in direzione Ognina. Nuovo evento targato Europe Direct Catania, l'organizzazione No Profit e Medine ha previsto per il prossimo 6 aprile una manifestazione alla cittadella universitaria, il tema dell'incontro e l'innovazione tecnologica. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di Ciac News. L'assessore regionale al turismo, Elvira Amata, ha firmato il decreto che adotta l'elenco aggiornato dei comuni turistici della Sicilia in base alla più recente classificazione compiuta dall'Istat. Sono 291 le località siciliane in elenco, presente anche Paternò. Anche Paternò, tre comuni turistici della Sicilia. La città, situata alle pendici sud-occidentali dell'Etna e dominata dal Castello Normanno, figura nell'elenco delle 291 località individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica e adottato dalla regione siciliana tramite il decreto firmato dall'assessore del turismo Elvira Amata. Le 291 realtà figuranti nell'elenco aggiornato adottato dalla regione potranno istituire, come spiegato dall'assessore Amata, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. I proventi contribuiranno a promuovere i territori, migliorando nell'attrattività turistica. L'elenco dei comuni turistici siciliani, aggiornato in base alla più recente classificazione Istat, comprende anche altre cittadine del comprensorio. In lista, infatti, trovano posto Belpasso, Bronte, Biancavilla, Ragalna, Adrano e Motta Sant'Anastasia per quel che riguarda il territorio catanese, Centuripe e Regalbuto nell'Ennese. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha presentato il disegno di legge sulla riorganizzazione delle province e delle città metropolitane adottato dalla Giunta. Sul testo dovrà pronunciarsi l'assemblea regionale. Sentiamo. Abbiamo avviato il percorso per la reintroduzione delle province in Sicilia con l'elezione diretta di presidenti e consigli. Ad annunciarlo il presidente della regione Renato Schifani. Il disegno di legge sulla riorganizzazione di province e città metropolitane è stato adottato dalla Giunta e riprende la proposta depositata in Commissione Affari Costituzionali del Senato, adattata al contesto normativo isolano. Sul testo adesso dovrà pronunciarsi l'assemblea regionale siciliana. L'abolizione degli endi intermedi nove anni fa con l'istituzione delle città metropolitane e dei liberi consorsi, specifica il governatore Schifani, non ha mai funzionato. Con questo testo diamo soprattutto risposta a un'esigenza sentita non soltanto in Sicilia ma in tutto il Paese, come dimostrano le iniziative legislative presentate in Parlamento in fase avanzata di discussione. Per questo, prosegue ancora il presidente della regione siciliana, sono ottimista su un iter veloce in ars attraverso anche un confronto con tutte le forze politiche rispetto al quale siamo sempre disponibili. Il disegno di legge prevede sei province. A queste si aggiungono le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Nello specifico, le province a venti, una popolazione superiore al milione di abitanti, saranno dotate di 36 consiglieri e massimo 9 assessori. 30 consiglieri e un massimo di 7 assessori sono previsti per le province che contano tra 500.000 e 1 milione di abitanti. Quelle con una popolazione inferiore ai 500.000 abitanti potranno invece eleggere 24 consiglieri e fino a 6 assessori. Il DDL, tra le altre cose, introduce la figura del consigliere supplente e il collegio unico per l'elezione del presidente delle città metropolitane delle province e stabilisce le quote rosa nelle liste. L'entrata in vigore della legge, dopo l'approvazione in assemblea regionale, è condizionata dall'abrogazione della legge del Rio da parte del Parlamento nazionale. La vicenda della gestione delle acque reflue nel territorio di Adrano. Non luogo a procedere. Per l'ex sindaco Angelo Dagate, per l'ex commissario straordinario Angelo Saieva e il sindaco, in carica Fabio Mancuso. Con dispositivo letto pubblicamente all'udienza di ieri, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania Curro ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del sindaco di Adrano Fabio Mancuso, dell'ex commissario straordinario Angelo Saieva e dell'ex sindaco Angelo Dagate per i reati di omissione di atti di ufficio e altri reati ambientali, di cui a vario titolo erano imputati in concorso in relazione alla gestione delle acque reflue da parte del Comune di Adrano, con contestazione dal 2018 fino alla data attuale, a darne notizie una nota stampa del Comune di Adrano. Per Fabio Mancuso, sindaco in carica, continua la nota, la notizia della sentenza di non doversi procedere, ottenuta già l'udienza preliminare prima dello svolgimento di un ordinario processo, a un duplice valore, quello della giustizia sostanziale, ma soprattutto quello di fungere da monito di protezione per tutti gli amministratori, affinché si sentano liberi di amministrare virtuosamente i loro enti senza il pericolo di incorrere in responsabilità che la complessa macchina amministrativa già esclude per legge, riportando dunque luce sulle rispettive sfere di competenza. Il pronunciamento di una sentenza, aggiunge l'avvocato Francesco Messina, rappresentante legale dell'ente, di non doversi procedere all'udienza preliminare, non essendo statisticamente consueto, riempie di soddisfazione, perché attraverso l'attività difensiva il giudice, nonostante la fase di filtro processuale dell'udienza, è riuscito a cogliere quegli aspetti della struttura amministrativa che segnano un netto confine tra ente controllato e ente controllore, evitando di celebrare un inutile dibattimento nel quale il verdetto assolutorio per i sindaci e il commissario sarebbe stato inesorabile. Negli ospedali di Acireale, Biancavilla, Bronte e Caltagirone, i papà possono di nuovo entrare nei punti nascita e assistere. La compagna nelle sue varie fasi del parto si torna alla normalità dopo le restrizioni pandemiche. Non solo l'ospedale Garibaldinesi, ma di Catania, dopo le restrizioni legate all'ondata pandemica del Covid-19, anche i punti nascita degli ospedali di Bronte, Biancavilla, Acireale e Caltagirone tornano ad aprire le loro porte a Eneo Papà. Un ritorno alla normalità necessario per garantire, afferma Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell'Asp di Catania, vicinanza e supporto alle neomamme in tutte le fasi del parto e permettere alla coppia di condividere insieme il meraviglioso evento della nascita del loro figlio. I Neopapà potranno quindi assistere le compagne dal momento del travaglio alla nascita del figlio e al rientro in stanza di degenza nei giorni successivi al parto. Inoltre, potranno far visita alla neomamma e al bambino sia nel primo pomeriggio dalle ore 13 alle ore 14, sia nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19. Il compito dei Neopapà, come sottolineato dal direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Angelo Tarascio, è quello di essere attenti ai bisogni della compagna, di sostenerla e incoraggiarla. Dunque corsie aperte, così da permettere anche alle donne maggiore serenità in uno dei momenti più importanti della loro vita. Prenderanno il via lunedì i lavori di scarifica e messa in opera sul manto stradale, sulla circonvallazione di Catania. Si parte dal tratto di Viale Felice Fontana, proseguire verso Ognina. Asfalto crepato è messo a dura prova dalle importanti radici degli alberi che fanno da cornice alla circonvallazione di Catania. Sono trascorsi 17 anni dagli ultimi lavori di riqualificazione. Il mando stradale ha risentito del trascorrere del tempo con avvallamenti e un degrado generale delle carreggiate, che per la sicurezza dei viaggiatori verranno presso risolti. Opere di totale risistemazione dell'asfalto verranno eseguite già dalla prossima settimana. I lavori prenderanno il via lunedì, a cominciare dal tratto di Viale Felice Fontana, all'altezza dell'ospedale Garibaldinesima, in direzione Ognina. Andranno ad aggiungersi ai lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e delle alberature già eseguiti nelle scorse settimane. Si tratta di opere che rientrano nell'appalto dei lavori dell'asseviario Montepo Ognina e Ognina Montepo di oltre 9 chilometri, finanziate nell'ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo sviluppo di Catania, per un importo di circa 4 milioni di euro. Durante scarifiche e bitumazione del mando stradale verrà comunque consentito il transito dei veicoli. I lavori che riguarderanno il primo tratto della circonvalazione catanese dalla rotonda di Montepo a San Nullo nello specifico dureranno circa 20 giorni. La polizia locale presiderà l'area del cantiere per favorire il flusso veicolare. L'organizzazione No Profit e Medine, chiamata a diffondere i valori europei sul territorio etneo, ha previsto per il prossimo 6 aprile una manifestazione alla cittadella universitaria. Il tema dell'incontro è l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Ursino, presidente di Europe Direct Catania. Europe Direct Catania. Dopo il primo evento che abbiamo raccontato e che è segnato l'inizio di questa avventura catanese, si propongono nuovi appuntamenti. Siamo qui proprio per parlare di quello che accadrà con il dottor Ursino, che salutiamo. Allora, il 18 marzo è un primo evento dedicato ai giovani, ma soprattutto partiamo proprio dal grande evento, quello del 6 aprile. Quale sarà il filo conduttore stavolta? Il filo conduttore è come l'Europa supporta la ricerca, la ricerca nella trasformazione digitale e abbiamo coinvolto, infatti questo è un evento, insieme al DA, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica della Università di Catania e insieme all'Innovation Lab Catania. Parleremo di tutto quello che si fa dalle nostre parti e quindi si parlerà per esempio di AAL, domotica per il mondo degli disabili e per il mondo degli anziani, col professore Bruno Andò, di robotica col professore Muscato, di aspetti elettrici con il professore Mario Cacciato, poi parleremo con Gianluca Giussolisi di elettronica e di microprocessori e così via, con Giovanni Schembra di 5G, perché con la 5G verranno a essere cambiati molti modelli di business, ci saranno nuove applicazioni che verranno fuori perché si abbatterà di molto la latenza, nasceranno, cambieranno molte cose nella nostra vita e quindi la 5G va affrontata, va conosciuta e ne parleremo con Giovanni Schembra, ma poi si parlerà di health, si parlerà di, per esempio con Giuseppe Inturi, il professore Inturo, di mobilità sostenibile, Giuseppe è uno dei più grandi esperti di mobilità. E poi ci saranno anche delle figure come gli NGV, con Mauro Coltelli, e Luca Porcaro, del Geo Group, che parleranno del più importante progetto sulle smart cities in Sicilia, che si chiama Seicesta e Via Safe, sul monitoraggio delle ceneri vulcaniche. Si parlerà di biotecnologie, col progetto PQU Sensor, se ne parleranno in questo caso, la professoressa Marianna e poi con, insieme a Marianna Messina, insieme al dottore, l'ingegner Anselmo Viola, insomma ci saranno tantissimi argomenti, tutti che riguardano la ricerca, ho dimenticato sicuramente qualcuno, tutti che riguardano la ricerca nella trasformazione digitale, sarà sicuramente molto interessante perché ogni intervento durerà non più di 10 minuti, quindi modello TED, modello molto veloce, e ci sarà pure la possibilità del dibattito, si terrà alle ore 10 del giovedì 6 aprile nell'aula magna didattica, quella grande della cittadella, che ha circa 350 posti a sedere, quindi abbiamo scelto una sede molto grande perché sappiamo quanto possa essere interessante per il mondo universitario della cittadella un incontro dove tanti di questi professori così in gamba possono dire per un attimo la loro a un grande pubblico, e rientra sicuramente nelle mission sia del Joe Group che dello Europe Direct. Ecco, per entrare diciamo anche su quella che è la mission appunto, perché ci siamo lasciati a dicembre, parlando della necessità di inculcare un modello europeo che magari su Catania ancora non è rientrato del tutto, ecco, questo nuovo appuntamento rientra sempre in quell'ottica, portare quella che è l'innovazione, portare quello che è il pensiero europeo, un'apertura al futuro anche a Catania dove magari ancora questo processo di avanzamento tecnologico, digitale non è del tutto radicato, anche questa diciamo è sempre la mission della Europe Direct. Sì, diciamo che in tutti i territori che hanno degli aspetti di sottosviluppo ci sono sia momenti di eccellenza, c'è tanti a Catania, sia anche territori un pochettino più poveri. In questa occasione noi cercheremo di valorizzare i momenti di eccellenza che il nostro territorio ha, quindi non è che tutto è grigio da noi, ci sono anche delle belle realtà sia a livello aziendale sia a livello universitario che vanno valorizzate. Ultima domanda per rientrare anche sull'introduzione. 18 marzo ci sarà un altro appuntamento, in quel caso cosa succederà? Allora, uno dei problemi che si pongono oggi i ragazzi è rimanere in Sicilia e andarsene. Allora, andare a capire che ci sono opportunità per rimanere in Sicilia, perché questo brain train, questo fatto che la gente se ne scappa poi dalla Sicilia, che è una terra bellissima, ovviamente impoverisce, impoverisce sotto ogni aspetto, perché sono i giovani che poi possono davvero cambiare gli assetti di un territorio. Allora, noi in quel caso parleremo delle opportunità che ci sono per rimanere qui in Sicilia e parleremo, in questo caso, di una saletta più piccola, con un gruppo di universitari e ci saranno dei relatori che gli spiegheranno i vari aspetti di loro interesse. Si conclude così pure la seconda edizione. Vi auguro a tutti una buona serata. Grazie a tutti.